Jingle Spot, il Tribunale delle Romane, Rete Oro, Canale 18, tutti i venerdì sera. In Spagna ieri assicuravano, la Lazio ha già offerto 15 milioni per Arcadius e Milik, ma occhio alla concorrenza di Siviglia e altri club europei. Oggi il quotidiano Leggo spiega come l'attuale attaccante dell'Ajax sia stato già vicino a vestire la maia bianco-celeste. Era il 2013, un agente FIFA propose il giocatore all'Otito, a quel tempo giocava con i polacchi del Gornike Zavse. In cambio chiedevano appena 500 mila euro, ma la Lazio rifiutò. Il classe 94 poi si trasferì al Bayern Leverkusen per 2,5 milioni di euro, che lo girò in prestito prima all'Augusta, poi all'Ajax. In Olanda è esploso definitivamente quest'anno, in le divisie 21 gol e 8 assist in 31 presenze. Un rimpianto non da poco. Tutti i venerdì dalle 21.30 alle 24 vedi il Tribunale delle Romane su Reteoro, canale 18 e 518 del Digitale Terrestre. Il Tribunale delle Romane è su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, dove potrai vedere le ultime puntate. Vieni a trovarci!